Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato 2011 L'Alfa Romeo per l'America Sono nove gli esemplari prodotti di Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato definita dallo stesso Zagato una vettura avant-garde La base del telaio è quella della Viper ACR ed è stato possibile questo connubio grazie alla recente joint venture tra il gruppo Fiat e quello Chrysler Il primo dei collezionisti che potrà godere di questo gioiello di design e meccanica è un americano membro dell'Automobile Museum di Saratoga, Eric King La TZ3 Stradale firmata Zagato ha qualcosa in comune con la precedente Alfa Romeo Zagato TZ3 Corsa Ambe due hanno un cuore in fibra di carbonio, anche se non negli stessi punti Infatti la Stradale ce l'ha nella carrozzeria, mentre la Corsa ce l'ha nella vasca su cui è assemblata Il motore della TZ3 Stradale è un potentissimo 8,4 litri da 611 cavalli in configurazione Kytale che è presente anche nella Corsa L'effetto Kytale garantisce a questa vettura delle dimensioni compatte con un vantaggio aerodinamico non indifferente In definitiva, quest'Alfa Romeo TZ3 Stradale erediterà tutte le varie Zagato Stradali che sono state ideate nel tempo, a partire da quelle degli anni Sessanta